La rabbia della famiglia dell'architetto Nervi si fa sentire dopo le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che su Financial Time ha definito pesantemente lo stadio Franchi. La parola shitest in inglese lascia poco spazio alla fantasia, così il contrattacco passa le vie legali con una diffida alla CF Fiorentina, spiega Elisabetta Margiotta Nervi. Le frasi di Commisso, dice, ledono l'immagine e la reputazione di Pierluigi Nervi e questo non è accettabile. Chiediamo che Commisso risponda di quello che ha detto. La Fiorentina da subito ha parlato di una malinterpretazione delle parole del presidente che si riferiva allo stato di conservazione dello stadio e non alla parte architettonica. La rabbia del presidente si sottolinea era rivolta alla gestione politica dell'impianto e di come gli sia stato impossibile lavorare liberamente.